Identikit di un'icona al femminile. Ok. È sempre bella. È stata sempre appagata del suo aspetto. Santo cielo, no! E anche intelligente. Divento intelligente quando mi serve. Ma al più degli uomini non piace. Perché non è mai come sembra. Io sono la donna misteriosa. Un'attrice, una fotografa e un auguro dello stile. Tre storie diverse per tre diversi modi di diventare donne indimenticabili. C'è chi crea la moda e chi è la moda. Siana era la moda. Diana Vreeland, l'imperatrice della moda. In onda sulla F e disponibile on demand.